Buongiorno, Euro Piave ha il terzo anno di Vita in Campo. Quest'anno presentiamo un'innovazione, sarebbe Electric Buriang. Abbiamo rivisitato il giulio 2010, che era il primo atomizzatore a recupero fatto da Euro Piave. Praticamente abbiamo integrato un generatore elettrico che funziona con la PTO, che fa funzionare i quattro ventilatori che sono montati per ciascuna paratia. Abbiamo modificato le paratie rispetto all'altro modello che facevamo, rispetto al giulio 2010. Praticamente l'aria crea un vortice tra le due paratie, che riusciamo a penetrare meglio tutto il manto della vite. Praticamente anche il risparmio del prodotto, il recupero, abbiamo aumentato di un 20%. E la macchina consuma un 40% di gasolio, perché facendo con la forza dell'elettricità, abbiamo diminuito i giri della PTO del trattore. E la macchina pesa 5 quintali meno, è importante che quella è la macchina più compatta. Penso che qua Abiti in Campo sia il posto migliore per toccare con mano l'innovazione, le novità. E anche per un operatore del settore che comunque deve comprare una macchina, qui vede proprio l'efficienza del mezzo e poi può farsi un'idea e decidere per l'acquisto anche. Abiti in Campo